Zelal Elbistan, il 6 febbraio la Turchia è stata scossa da un terremoto fortissimo, magnitudo 7.6, 7.4, un paese devastato, 11 paesi coinvolti e lei da Firenze ha deciso di aprire una sorta di gara di solidarietà per portare tutti questi abiti a tutte quelle popolazioni che ancora oggi stanno soffrendo appunto a causa del terremoto. Ho deciso a fare, pensando nel giro di due o tre giorni, di iniziare a fare una raccolta di all'inizio gli indumenti, poi ho pensato di mandare un semplice whatsapp ai miei conoscenti che ci sono sul telefono per un contributo anche economico perché dovendo viaggiare in aereo tante cose non si possono portare. Ho dato un IBAN e ho chiesto un punto raccolto in un posto specifico di indumenti caldi. All'inizio abbiamo fatto dei cartoni, abbiamo potuto spedire perché c'era anche trasporto gratis, ma dopo il governo turco purtroppo ci ha fermato, ha detto che i vestiti usati senza cartellini non si possono portare. Ho chiamato due negozi di vintage, vengono, portano via questa roba e in cambio lo trasformiamo in denaro per acquistare altre stuffe, tende in Turchia. Lei mi diceva che tutto questo che voi raccogliete andrà principalmente ai villaggi perché è lì dove ci sono maggiori difficoltà a reperire del cibo. Nei villaggi vivono più gli anziani e l'aiuto non arriva. Non sono morti, per fortuna sono vivi, però le strade sono interrotte per cui ci vuole un particolare tipo di macchina, un'attrezzatura diversa per raggiungerli e fa freddo perché il cibo non arriva, il pane non arriva, il latte non arriva perché in questo momento gli aiuti sono più concentrati dove ci sono ovviamente più morti e noi arriveremo dove hanno più bisogno i bambini. Partirà lei personalmente? Parto io personalmente dopo domani il 25 da Bologna e vado direttamente a Adana dove viene mio cugino a prendermi con due camion già la notte del 25. iniziamo a fare il nostro tragitto, pensiamo di fare credo più di 1000-1500 chilometri.